Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vi do lezione dedicata alla vita e alle opere di Ariosto. Prima però ricordatevi di lasciarmi un piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirvi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Insieme a Machiavelli, Ludovico Ariosto è il più grande scrittore e lo scrittore più rappresentativo del Rinascimento italiano. Si allontana dal modello dell'intellettuale cortigiano, per esempio da Boiardo o da Bembo, e usa proprio come Machiavelli la scrittura come arma d'attacco. Ariosto è un classico, perché il suo Orlando Furioso non è, come invece pensava Croce, letteratura di evasione. Bensì ci ricorda l'intelligenza viva anche e soprattutto di immaginazione e di ironia, come dice lo stesso Calvino. Calvino, grande amante di Ariosto, che vi ha dedicato proprio un libro nel quale rilegge l'Orlando Furioso, che vi consiglio. Parliamo ora però della vita di Ludovico Ariosto. Nasce nel 1474 a Reggio Emilia, è primo di dieci, una famiglia di dieci, tra fratelli e sorelle. Nasce a Reggio Emilia, però già dieci anni dopo si stabilisce con la famiglia a Ferrara. Il padre ha degli incarichi amministrativi e quindi anche lo stesso Ludovico inizia e viene avviato allo studio. Quale studio? Naturalmente gli studi giuridici, quindi gli studi di diritto, ai quali diciamo venivano avviati molto spesso i letterati. Ce lo dice proprio Ariosto cosa ne pensa di questi studi giuridici. Mio padre mi cacciò con spiedi e lance, nonché con sproni, a volger testi e chiose, e m'occupò cinque anni in quelle ciance, ma poiché vide poco fruttuose l'opera e il tempo invangettarsi, dopo molto contrasto in libertà mi pose. Quindi cinque anni buttati, dice Ariosto, però finalmente dopo cinque anni ebbe la libertà. Nel 1494, dunque, Ariosto può finalmente dedicarsi agli studi umanistici e poco tempo dopo viene accolto alla Corte degli Este. Tuttavia, pochi anni dopo, sei anni dopo, nel 1500, suo padre muore. Quindi gli ozzi letterari vengono interrotti perché deve provvedere alla famiglia. La vita alla Corte degli Este, infatti, era una vita agiata, come ci dice lo stesso Ariosto, che dice Ercole d'Este urvienne, non perché la farà comune e fossa meglio capace ai cittadini suoi, ma ornerà di templi, di palagi, di piazzi, di teatri e di mille agi. Infatti, la vita alla Corte degli Este è una vita dove ci sono anche altri intellettuali, come Boiardo, come Bembo. Però, dal 1506, quindi dopo la morte del padre di Ariosto, poco dopo il ducato passerà da Ercole ad Alfonso I d'Este, che continuerà dunque l'opera di Ercole. Come dicevamo, nel 1500 muore il papà di Ariosto e quindi lui si trova costretto a dover provvedere alle necessità della famiglia e dunque prende servizio dal cardinale Ippolito d'Este. Come afferma nelle sue satire, questo tipo però di incarichi non lo rende certamente orgoglioso perché sente offesa la sua dignità di letterato. Assume anche la veste di Chierico perché in questo modo può godere dei benefici ecclesiastici e scrive delle commedie per la Corte, la Cassaria e i Suppositi. Tra il 1509 e il 1510 Ariosto andrà anche a Roma, sarà ambasciatore del Papa, vi ricordo che Ippolito d'Este era cardinale. In questo modo Ariosto voleva ottenere un'azione diplomatica per ottenere dei prestiti per la guerra contro Venezia. Vi ricordo che nel 1509 c'è la battaglia di Agnadello, ma il Papa arriva a minacciarlo addirittura di morte quindi non ottiene questi prestiti che avrebbe voluto. Come dicevamo prima, nel 1500 muore suo padre, quindi lui prende servizio dal cardinale Ippolito d'Este. Allo stesso tempo prende anche gli ordini, quindi diventa Chierico. Naturalmente non ha sentito alcuna chiamata divina, semplicemente vuole avere dei benefici ecclesiastici. Dunque non vive come un Chierico, tant'è che ha anche un figlio virginio con una donna popolana. A Firenze ancora frequenta anche una donna sposata, Alessandra Benucci, con cui non convive, però ha una relazione assidua. Una data che vi dovete ricordare oltre al 1500 è il 1516. Infatti Ariosto pubblica la prima edizione dell'Orlando Furioso, edizione in 40 canti dedicata ad Ippolito d'Este. L'anno dopo però Ariosto rompe con Ippolito, perché nel 1517 il cardinale vuole che lo accompagni in un viaggio in Ungheria. Ma Ariosto non ne ha la minima intenzione e quindi rifiuta, dunque il cardinale lo cancella dalla lista dei cortigiani. È in questa occasione che Ariosto scrive le sue satire. Infatti in queste satire esprime proprio questa rottura in modo ironico. Sono sette satire che poi andremo a vedere in modo più approfondito. Dato che ha rotto con Ippolito d'Este, passa al servizio del duca Alfonso d'Este, che era fratello di Ippolito. Continua dunque la carriera teatrale. Inizia I studenti, che rimane incompiuta, e termina un'altra commedia, Il negromante. Nel 1521 fa una riedizione dell'Orlando Furioso, quindi nel 1516 pubblica la prima edizione con 40 canti. Nel 1521 una riedizione linguistica e poi avremo l'edizione del 34. Nel 1522 inoltre diventa governatore della Garfagnana, una regione appenninica, turbolenta e infestata dai banditi. Pochi anni dopo torna a Ferrara e scrive altre satire e compone un'altra commedia, La Lena. Ricordatevi nel 1516 prima edizione del Furioso in 40 canti, 1521 riedizione linguistica, 1532 ultima edizione del Furioso. Questa edizione vede 6 canti in più. Abbiamo 46 canti. Tuttavia, nel 1532 aveva accompagnato il duca Alfonso a Mantua per incontrare Carlo V ad Asburgo. Il poeta però si ammala e nel 33 muore, quindi non può curare la quarta edizione del Furioso. La morte di Ariosto vanifica il progetto di una quarta edizione. Inoltre lascia un'opera incompiuta, I 5 canti, che era un lungo episodio sui tradimenti di Gano di Maganza. Ci vediamo alla prossima video lezione nella quale approfondiremo le opere e le trame di Ariosto. Grazie a tutti.